Ciao, oggi ti voglio parlare della vendita di una prima casa prima dei 5 anni. Vi dice la falsa convinzione che non si possa vendere un'abitazione, una prima casa, prima dei 5 anni. Beh, questa è un'informazione sbagliata, la tua casa la puoi vendere quando vuoi. L'unica cosa a cui devi fare attenzione è le agevolazioni di cui hai beneficiato nell'acquisto. Quando tu compri un'abitazione come prima casa, il notaio ti spiegherà che ottieni uno sconto sulle imposte che vai a pagare sia essa IVA o imposta di registro. Bene, questo sconto, se tu vendi una casa prima dei 5 anni, lo Stato te lo può richiedere indietro. Quindi l'agevolazione di cui tu hai beneficiato può esserti chieste indietro. Questo però si può facilmente disinnescare in due modi. O attendi il quinto anno, quindi dopo il quinto anno se tu vendi una prima casa non succede assolutamente niente. Oppure, se la vendi entro i 5 anni, hai la possibilità di non perdere quello sconto di cui hai potuto beneficiare, riacquistando entro 12 mesi una nuova prima casa. Inoltre avrai anche un'agevolazione che si chiama credito di imposta, che potrai beneficiare dalle tasse che hai già pagato e scontarle dalle tasse della nuova casa che pagherai. Se hai trovato utili queste informazioni, metti un bel mi piace e iscriviti al mio canale.